In questa breve video-lezione, che conclude il percorso sul testo poetico, noi daremo delle indicazioni su come si deve organizzare un commento ad una poesia. E anzitutto, che cosa noi facciamo in un commento? Il commento si caratterizza per una fase importantissima, che è quella della rilevazione dei dati oggettivi che possiamo ricavare dal testo poetico, ma anche andando oltre il testo poetico. In alcune circostanze, e questo lo vedremo proprio nell'ultima slide, ci può stare anche una sorta di valutazione personale, laddove ovviamente viene richiesto, ma andiamo con ordine. Il commento è caratterizzato da tre fasi fondamentali. Anzitutto, la prima fase è quella della comprensione complessiva del testo, una seconda fase di analisi del testo stesso e una terza fase di interpretazione e contestualizzazione del testo. Andiamo a vedere le fasi nello specifico. Cominciamo dalla prima, comprensione complessiva del testo poetico. La prima verazione è quella ovviamente della lettura della poesia, quindi leggere il testo, leggerlo anche più volte, in maniera tale che la lettura diventi anche più sciolta, meno meccanica. individuare il significato delle parole nuove, questo lo possiamo fare o utilizzando le note che ci sono in calcio e la poesia, o laddove mancano, o comunque manca quella parola, la spiegazione di quella parola, possiamo ovviamente far ricorso al dizionario. e potrebbe essere importante come elemento per completare questa prima fase stendere una parafrasi del testo stesso. Sulla parafrasi abbiamo anche fatto una video-lezione analizzando le varie fasi e dando delle indicazioni su come svolgere una parafrasi. talvolta, laddove per esempio la poesia è molto lunga, ma è una poesia anche narrativa, probabilmente può essere utile semplicemente un riassunto del testo poetico. Seconda fase, molto importante anche questa, è la cosiddetta analisi del testo. e qui passiamo in rassegna i vari livelli del testo che sono stati oggetto di altrettante video-lezioni in questo percorso che abbiamo fatto all'interno della poesia. E anzitutto andiamo ad analizzare il livello metrico-ritmico, poi ci soffermiamo sul livello fonico, quindi andiamo a vedere il livello sintattico, andando quindi ad analizzare il periodare presente in questa poesia, ma anche cominciando a porre alla nostra attenzione quelle figure di posizione che ovviamente ci permettono di ricostruire poi il tessuto fondamentale della struttura della frase in italiano, come abbiamo visto appunto soggetto, verbo e complemento. Poi ci possiamo interessare a livello retorico, e qui ovviamente andando a ricercare le diverse figure retoriche che comunque sono presenti in un testo poetico, possiamo a questo punto dedicarci a livello lessicale, quindi andando a vedere se ci troviamo di fronte a parole desuete, parole antiche, parole quindi di un registro alto o basso. a conclusione possiamo, in qualche modo anche attraverso i campi semantici, andare a mettere in evidenza i temi o il tema principale presente nella poesia stessa, e cioè andremo a analizzare il livello tematico. Fatte queste due operazioni, cioè comprensione e analisi del testo, andiamo sull'interpretazione e la contestualizzazione. In questa prima slide dedicheremo la nostra attenzione all'interpretazione del testo. Come possiamo ben interpretare un testo? Chiaramente noi l'abbiamo già parafrasato, l'abbiamo analizzato tutte le parti, o almeno quelle che noi siamo riusciti a trovare, e a questo punto è necessario collocare il testo insieme ad altri testi dello stesso autore, in maniera tale da poter, in qualche modo, farci aiutare nell'interpretazione del testo stesso. Tanto gentile e tanto onesta pare, potrebbe essere interessante collocarla all'interno, quindi di altri testi, di altre poesie, sempre di Dante, e probabilmente anche della stessa opera, cioè Vita Nuova, ma non solo. Poi possiamo naturalmente provare a stabilire un paragone tra il testo che abbiamo analizzato con altri testi di autori dello stesso periodo storico. è importante perché noi possiamo avere un'idea del testo collocato in un preciso ambiente culturale particolare. Alla fine possiamo, o in mancanza naturalmente del punto 2, cioè di altri autori che hanno trattato e quindi sono contemporanei alla stesura del testo e che hanno trattato in qualche modo stilisticamente, per esempio, o anche tematicamente lo stesso testo. Ecco che possiamo andare a mettere insieme testi che affrontano lo stesso tema. e a questo punto noi possiamo anche andare al di là del periodo storico dell'autore stesso e costruirci un percorso tematico, immagino quello dell'amore, ma non solo, anche della poesia civile e tanti altri temi che un po' attraversano tutta la poesia italiana dalle origini fino ai nostri giorni. Altra operazione altrettanto importante è quella della contestualizzazione, cioè di fatto noi proviamo a collocare il testo, questa volta non paragonandolo con altri testi poetici coevi dallo stesso autore che trattano lo stesso tema, ma proviamo a considerare il testo in quanto qualcosa che rappresenta un momento importante dell'opera da cui appunto il testo è tratto. Ancora una volta, tornando naturalmente tanto gentile e tanto onesta pare, quella poesia rappresenta uno step importante all'interno dell'opera della vita nuova, quindi potremo ricevere ancora ulteriori informazioni sulla poesia stessa collocando appunto questa poesia all'interno dell'opera da cui è tratto questo testo. Nello stesso tempo quel testo può avere avuto un significato importante per la biografia dell'autore, quindi rappresenta un momento, un evento importante dell'autore stesso, allora collocandolo nella giusta posizione all'interno della biografia dell'autore noi possiamo ricavare altri dati importanti. E poi un terzo momento, quello di più ampia contestualizzazione chiaramente collocare il testo all'interno del periodo letterario di cui espressione ci può dare un'idea più completa del testo stesso e soprattutto ci può chiarire probabilmente anche alcune scelte stilistiche e non sono anche il destinatario o di produzione del testo vero e proprio. Srettamente legato al periodo letterario è anche il periodo storico difficile riuscire a scindere un testo letterario da un periodo storico anche quando il testo la poesia è una poesia fortemente intimistica comunque è una poesia che fa riferimento a un ambito letterario e storico molto particolare oppure pensiamo anche a poesie come quelle di Ungaretti del Porto Sepolto che hanno una collocazione storica imprescindibile cioè la prima guerra mondiale ecco in quel caso quelle poesie necessitano una contestualizzazione storica molto molto forte oltre che naturalmente una contestualizzazione riguarda la biografia dell'autore e il periodo letterario di riferimento talvolta alla conclusione il nostro commento possiamo esprimere delle valutazioni personali laddove ovviamente ci viene richiesto quindi nel momento in cui ci può essere richiesto di dire la nostra quindi esprimere un nostro giudizio che ovviamente non può limitarsi semplicemente al mi piace non mi piace è ovvio ma deve essere un giudizio ponderato in base agli elementi di analisi che noi abbiamo ricavato in base anche alla contestualizzazione del testo e probabilmente anche all'attualizzazione del testo quindi noi possiamo chiaramente dialogare con questo testo che abbiamo ormai letto parafrasato analizzato e commentato confrontandolo con la nostra esperienza personale con il nostro vissuto e quindi ovviamente attualizzando il testo e vedendo le differenze le somiglianze tra quel testo e la nostra epoca e vedendo la nostra epoca Grazie a tutti.